Matrimonio a prima vista 10, il commento di Marco Rompietti e Cecilia De Stefani sulla prima e la seconda puntata. Ieri sera su Real Time ha debuttato la decima edizione di Matrimonio a prima vista con le prime due puntate. A commentarle insieme a noi ci sono Marco Rompietti e Cecilia De Stefani, protagonisti della quarta stagione del format. A seguire eccovi la loro opinione, mentre in fondo all'articolo trovate i due video commenti a caldo di Marco. Disponibili anche sul suo canale YouTube. Grazie. 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 Grazie.